18 arresti eseguiti dalla Polizia di Stato di Caltanissetta nel corso delle indagini preliminari coordinate dalla Procura della Repubblica Nissana e dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Il reato contestato è quello di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Di 18 ordinanze di custodia cautelare personali, 12 sono stati condotti in carcere, 6 ai domiciliari come disposto dal giudice delle indagini preliminari. La particolarità di questa attività investigativa è che ha permesso di individuare dei soggetti a capi e promotori tanto italiani quanto tunisini. L'indagine della Polizia di Stato è nata esattamente di Vagela dove si è incagliato un atante di fronte proprio all'imbocco del porto di Gela. Da lì le attività investigative, avendo rinvenuto questo natante privo di occupanti, hanno immediatamente compreso gli uomini della squadra mobile e del commissariato che si trattasse di uno sbarco di soggetti che volevano fare ingresso in Italia in modo irregolare. Gli uomini della Polizia di Stato sono riusciti a individuare una coppia di cittadini tunisini che aveva creato una vera e propria base logistica all'interno di un'azienda agricola di un cittadino niscemese. Da questo tipo di attività è poi nata una seconda parte delle indagini che ha permesso di ricostruire la presenza sul nostro territorio e in territorio anche straniero, in particolar modo in Turisia, di una organizzazione chiaramente finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In particolar modo l'aggravante è stata anche contestata e richiesta dalla Procura della Repubblica e poi contestata al giudice per l'indagine criminali della trasnazionalità. Cosa significa? Significa che in questo caso i sodali dell'organizzazione operavano su più stati, in particolar modo qui in Italia e Tunisia. Gli scafisti sarebbero partiti con le imbarcazioni dal porto di Gela o dalla zona costiera grigentina in direzione della Tunisia che una volta lì avrebbero caricato i migranti per il viaggio di ritorno in Sicilia. L'organizzazione criminale avrebbe avuto un profitto tra i 30.000 e i 70.000 euro ad ogni viaggio, 3.000 o 5.000 euro a persona, questa è la quota che sarebbe stata versata da ciascun migrante per la tratta in mare, pagato in contanti prima della partenza. Il cuore di questa attività investigativa era proprio la cittadini scemi, in particolar modo in questa base logistica. È l'osmosi tra cittadini italiani e tunisini nel compiere ovviamente una serie di viaggi in violazione delle norme sul testo unico dell'immigrazione. favorivano quindi l'ingresso di cittadini tunisini con dei viaggi utilizzando delle barche molto veloci, motoscafi o gommoni con delle prestazioni elevatissime, con addirittura motori da 400 cavalli che permettendo di raggiungere la Tunisia dalle nostre coste in 3-4 ore, in base ovviamente alle condizioni del mare, e trasportando un numero più piccolo, diciamo, di migranti minore rispetto ai barconi delle rotte che provengono dalla Libia. Ed erano dei viaggi che avevano anche un costo superiore anche di 5-6 volte.